Stema è la prima community platform italiana dedicata al mondo ingegneristico. Siamo una vera e propria piattaforma con da un lato le aziende e dall'altro lato gli ingegneri. Dal punto di vista delle aziende le aiutiamo ad estrarre il loro DNA ingegneristico e a raccontarla ai giovani talenti in modo tale da interessarli, proporre dei progetti. Dall'altro lato invece c'è il mondo dei talenti che formano una community molto folta di giovani ingegneri. Il nostro scopo è stato quello di portare a queste ragazze con un background tecnico quelle informazioni che loro volevano riguardo al mondo del lavoro e per farlo abbiamo riportato le loro richieste alle aziende che hanno di fatto poi all'interno della nostra piattaforma riportato tutte quelle informazioni che potessero interessare a questi talenti sul mondo del lavoro e quindi facilitare alle aziende poi un punto di talent attraction. per queste persone.